bravi vai Rino ora quanti siamo rimasti penso famosissimo che tutti mi conoscete una finale del Doro un applauso vai grazie 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 non tu mi lo so Oh, 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 oh Non, 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 non , non,�� ha premise Grazie! Grazie! Gordo! Gordo! Grazie! 8-7! 8-7! 8-7! Ripraziamo ancora l'Istituto Trezzico Industriale Galilei, un grande applauso! Vai! Vai! E adesso...